Ciao, sono Salimi Giancarlo, responsabile di Avis Cesena per la Maratona Teleton. Mi trovo qui con due volontari, ci stiamo adoperando per preparare tutto il servizio che dovremo fare assieme ad 80 volontari che saranno impegnati per la Maratona Teleton 12, 13, 14 dicembre. Noi siamo partiti 17 anni fa e quindi indubbiamente quando siamo partiti eravamo pochi volontari. Avis ha capito che era importante essere vicino a Teleton perché indubbiamente la ricerca è importante e se vediamo i risultati è perché la ricerca funzioni. Come Avis ci auguriamo che nel più breve tempo possibile ci sono tante sessioni Avis a livello nazionale che collaborano e sentono questo impegno importante per la ricerca.